E' un dovere del comune che deve essere adempiuto. Sappiamo che le strade sono tante e le difficoltà pure, ma dovremmo essere considerati al pari di tanti altri cittadini. I residenti e gli operatori commerciali della zona del prelato lanciano un appello al comune di Fano per chiedere i lavori di asfaltatura delle strade, piene di buche, anche profonde, rattoppi qua e là e avvallamenti. E' una strada, anche se piccola, molto trafficata e quindi anche quei pochissimi rattoppi che vengono fatti durano il tempo giusto di qualche giorno per poi tornare come prima. Avete organizzato anche una raccolta firme? Sì, abbiamo organizzato una raccolta firme che abbiamo consegnato in comune ormai più di un mese fa. Abbiamo raccolto molte firme, più di un centinaio, sia di persone della zona che di persone che frequentano e tengono al posto. Oltretutto è un luogo molto bello per la città di Fano e quindi è anche un posto che secondo noi è molto importante valorizzare, sia per i fanesi che per tutti i turisti che vengono qua. Inoltre, spiega Alessandro, abbiamo segnalato tutte le strade che versano in pessime condizioni, ma la via che presenta maggiore criticità è quella che da centina rola conduce alla chiesa del prelato. Dal comune però si attende ancora una risposta, diversi intanto i turisti, italiani e stranieri, che ci hanno raccontato la loro esperienza. Come questa ragazza cinese è venuta a Fano con la sua famiglia durante il tour nelle Marche, perché aveva letto online delle buone recensioni. Il posto le è piaciuto, così come le persone molto carine e amichevoli. L'unica pecca, detto, sono le condizioni delle strade. Infatti, racconta la ragazza, avevamo noleggiato un'auto e avevamo paura di danneggiarla. Anche la signora Isabella di Forlì è stata a Fano con un gruppo di amici due settimane fa. Dopo un pranzo a base di pesci in un ristorante, volevano visitare l'eremo di Montegiove, passando per le aziende vitivinicole del prelato per acquistare del buon vino. L'idea però è sfumata a strada facendo. Non siamo arrivati in fondo, perché la strada è totalmente impercorribile. Bucche gigantesche, tenuta malissimo, tutto l'asfalto ammalorato, non c'è un tratto percorribile in sicurezza. Tra l'altro abbiamo anche delle auto notevoli. Nonostante questo, veramente, abbiamo rischiato di fare dei danni all'auto. Come avevo detto, non siamo arrivati in fondo, siamo tornati indietro, ma a queste condizioni non penso che verremo più. Identica la situazione anche per Ludovica, una giovane siciliana. Le condizioni della strada, nonostante i mezzi adeguati, ci hanno impedito di raggiungere i luoghi desiderati. Ci è dispiaciuto tantissimo, anche perché volevamo acquistare dei prodotti tipici locali, ma purtroppo non siamo riusciti nel nostro intento. La strada era veramente in condizioni terribili. Spero che la mia voce, insieme a quella delle altre persone, possa far sì che la situazione migliori e che questi luoghi diventino più agibili e fruibili per il turismo nazionale e internazionale. Noi chiediamo al Comune di intervenire più presto, anche perché è capitato, per esempio, anche a me personalmente, un paio di volte di bucare la gomma della macchina, per esempio. Quindi è anche una situazione che a volte può anche essere non solo una cattiva pubblicità, ma anche proprio a tutti gli effetti pericolosa per le persone che vivono qua e che vengono qua anche per tanti altri motivi.